si ragazzi ho comprato il quad più economico di amazon è proprio qui dentro come lo scarichiamolo? ragazzi ho sempre desiderato un quadro non vedo l'ora di aprire il pacco procediamo all'apertura è bello è aggressivo è grosso che si fa bro? ecco le istruzioni bro che non sembra un pezzo di immondizia sembra buono il feeling è tipo quello delle pit bike è divertente è divertente ma che è questa cosa? what the fuck is there? telecomando come? non lo so che serve dico la verità lucchetto chiuso lucchetto aperto città fa rumore ah questa che è? ecco per spegnerlo nulla proviamo non ci accende il telecomandino telecomando per spegne sicurezza sicurezza è pieno di sicurezza il quadro non c'è pure il cazzico sgancio rapido dopo l'ultimo video con la minimoto che ha riscosso un enorme successo e sono stati in tanti a commentare sono stato molto contento di tutti quei messaggi di affetto anzi alcuni te rileggo minazza di morte minazza di morte minazza di morte minazza di morte ho una scritta ti meriti il mio follow minazza di morte minazza di morte povera moto minazza di morte ciao dovresti pubblicare più video sei molto bravo e noi rifacciamo comunque questo quad ho deciso di tenerlo perché è veramente fatto bene c'è il feeling delle pit bike non come la minimoto che era veramente fatta di merda anzi si è rotta appena l'abbiamo aperta questo lo teniamo ooooooh tutto ok è potente è quello che è che è quello che è cosa cosa è possibile che sia così è stato potente di modo d'arri un po' spiello di avere delle cose sono che è il si è ingarrata che cazzo hanno fatto la fusione prende e gli è rimasta la maniglia nel telaio e non si ricaccia più questa cosa ha perso il vento mi sa ogni americano che possiede un quad lo porta nel fang noi abbiamo il quad stiamo creando il fang guarda le gomme ahhh 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 fammi fare un focus su quale è la situazione e' grave oh è liscia farà tipo 100 kg di più il quadro e e e e e e e e Sì, sì, sì Ora dov'è uscire la catena, porco d*****o Ascolta 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 Oh, God Oh 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 Ti ha abbandonato il manubrio Il fatto di carta però Com'è nuovo Sono molto deluso Il quad è più resistente di quello che pensavo Cioè Funziona ancora Lo puliremo Lo rimettiamo in testo E ci proviamo una seconda volta E ci proviamo una seconda volta